Ieri dinanzi al mercato ortofrutticolo di Vittoria, simbolo e avamposto di ogni crisi che si richiama al settore agricolo, c'erano i forconi con il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti. Annunciato un sit-in dinanzi alla struttura giovedì 7 e venerdì 8 marzo. Qualcuno aveva temuto un blocco degli ingressi nel mercato, ma è stato chiarito che ciò non è negli intenti dei promotori, anche se viene rievocata l'eco dei blocchi del 2012 che crearono tensioni, scontri e denunce penali. I produttori presenti all'annuncio del sit-in così si sono espressi. Arrivano le giornate da pagare, ma con quale soldi le dobbiamo pagare? Arriva l'impresa di pagare, con quale soldi? Come le dobbiamo pagare? Si è stato portando al fallimento, vi volete svegliare e uscite fuori tutti, qualsiasi settore siete, scendete in campo con noi, giorno 7 e giorno 8, perché questa è una lotta che interessa a tutti, non interessa solo all'agricoltura, svegliatevi tutti, chiudete, per due giorni non muore nessuno. Almeno lo Stato capisce di cosa stiamo parlando, qua stiamo parlando di interi territori, quanto dei Nebordi, di Palermo, di Paglino, di Catania e di Vittoria, abbiamo tutti gli stessi problemi quando se ne parla, io gli stessi problemi ce l'ho, lo so perché ce l'hanno anche i colleghi nostri che sono dall'altra parte del mare, Roma, Lazio, Piemonte, ci hanno lo stesso problema. Visto che nessuno ci dà una mano d'aiuto a noi agricoltori, perché andare a spendere un euro per i costi di gestione, andare a vendere il pomodoro, 50 centesimi, come pomodoro, zucchina, melanzana, non abbiamo noi il riscontro per andare a poter pagare i magazzini, e poi queste disperazioni arrivano a casa, nelle nostre famiglie, onde i figli dicono, papà mi dai i soldi per comprare queste cose, ci dice papà non dà la pozzola a questa cosa perché il pomodoro si vende poco. E' una problematica che noi abbiamo in tutte le famiglie che lavoriamo in campagna, io spero che qualcuno che ci aiuti nel comparto agricolo, perché se muore il comparto agricolo è il perno principale che fa girare tutto l'indotto, tutti i magazzini vi fai, se i nostri figli, se noi la Sicilia chiude, dove dobbiamo andare a lavorare? Io la terra purtroppo da Pachino a Vittoria non la possiamo portare in altre zone, mi piace fare questo tipo di lavoro da generazione, facciamo mio papà, mio nonno, cercamo se qualcuno, qualche politico ci aiuti nella nostra agricoltura, che è tanta bella. In ogni caso le quattro sigle, MDA, riscatto, altra agricoltura e tavolo verde, che dieci giorni fa da Piazza del Popolo hanno lanciato una piattaforma in otto punti per il superamento della crisi agricola, prendono le distanze, ribadiscono di proseguire la lotta sul terreno del dialogo con le istituzioni e le forze politiche e accusano. I tempi dei giochini e delle mobilitazioni pilotate o sottoposte al ricatto dei poteri oscuri che avvolgono la Sicilia è finito per sempre, con la smobilitazione dei movimenti che hanno cercato lo scontro per scopi non positivi, ma di servizio elettorale e per guadagnarci. Le quattro organizzazioni, dopo l'incontro con i deputati Blei, chiedono di incontrare la Commissione Attività Produttive dell'Ars, presiedute da Orazio Ragusa e il Presidente della Regione Musumeci. Sabato prossimo in Piazza del Popolo, in via Cavour, nuova iniziativa di sensibilizzazione, mentre giovedì 14 marzo ci sarà la carovana della solidarietà tra città e campagna. Infine una segnalazione ai commissari del Comune a dare un'occhiata alle facce e alle dichiarazioni minacciose di chi vuole strumentalizzare la protesta contadina.